Come responsabile marketing del Crystal Plant ho vinto come il miglior concorso assieme ad altri partecipanti per il Crystal Plant Design Contest in collaborazione con l'azienda MDF Italia per l'anno 2010. L'emozione c'è per due motivi, il primo motivo per Archiportale, per il premio, quindi donato da Archiportale ma il secondo motivo poi anche per il Linus perché un evento come questo Archiportale ha creato un evento bellissimo con un presentatore d'eccezione, quindi complimenti ad Archiportale. Quest'idea è nata, diciamo il concorso l'ho creato quattro anni fa, l'ho voluto creare come Crystal Plant in collaborazione prima con l'Antonio Lupi, poi con la Zanotta, poi con la MDF Italia e quest'anno con la Polyform proprio per dare spazio ai giovani creativi che iniziano una carriera e all'inizio vanno incontro a determinate difficoltà soprattutto di farsi ascoltare dalle grandi aziende, grandi brand. Grazie a questo concorso il materiale entra all'interno di queste aziende attraverso la mano di un giovane designer che difficilmente avrebbe l'opportunità di entrare dalla porta principale del mondo del design. Grazie a tutti!